ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi video su richiesta io avevo pubblicato un pochino di tempo fa un video in cui vi facevo vedere tutte le mie collane di produzione artigianale cioè quelle che ho fatto io e poi mi è stato chiesto di far vedere gli strumenti che utilizzo per fare bigiotteria quindi un po di materiale e anche un mini tutorial per mostrare il mio metodo di produzione della bigiotteria quindi io adesso vi farò vedere cosa utilizzo e poi vi farò vedere la realizzazione di una collana e di un paio di orecchini molto semplici che sono quelli che sto indossando adesso ho scelto questo modello perché è molto primaverile però voi tenete presente che io vi mostro il mio metodo quindi come faccio io e voi con quel metodo lì potete realizzare qualsiasi tipo di collana quindi anche qualcosa di molto diverso rispetto a quello che sto indossando io adesso però ho già parlato troppo quindi vi lascio al tutorial spero in qualche modo di esservi utile tenete presente che il mio mestiere non è fare bigiotteria il mio mestiere non è fare tutorial quindi io condivido semplicemente con voi un mio metodo o una cosa che comunque mi piace fare ma ovviamente non sono una professionista del settore quindi non ho la pretesa di insegnare niente a nessuno semplicemente condivido il metodo che io metto in pratica per fare queste cose vi lascio al tutorial e buona visione adesso vi faccio vedere tutti gli strumenti che utilizzo per fare bigiotteria e anche alcuni materiali io comincerei da una cosa fondamentale che sono le pinze queste qua io ne ho tre tipi ho anche queste però queste ve le faccio vedere dopo queste qui sono simili perché hanno la punta fatta ad uncino in questo modo queste hanno la punta leggermente più corta rispetto a queste che comunque l'hanno più lunga cerco di farvele vedere vicine ecco vedete che comunque queste sono un pochino più lunghe però hanno entrambe la stessa funzione vi serviranno per andare a chiudere quella perlina che serve per schiacciare i nodi e hanno una particolarità queste hanno i manici diciamo con la molla quindi è un pochino più facile forse andarle a maneggiare queste non ce l'hanno quindi dovete regolarvi un pochino meglio manualmente ma comunque diciamo che è la stessa cosa io tutte queste cose che vi faccio vedere poi vi lascio in info box il link per andare ad acquistarle direttamente su amazon poi invece questo tipo di pinze queste qui hanno la punta come vedete arrotondata e fatta così in questo modo anche queste hanno la molla e queste vi serviranno soprattutto se dovete andare a chiudere degli anellini e girarli su se stessi comunque poi vi farò vedere perché è molto più semplice farlo che spiegarlo una cosa banale ma che sarà utilissima sono le forbici queste vi serviranno sempre se fate bigiotteria io poi utilizzo anche un panno di jeans come questa era una vecchia tasca di jeans quindi un panno di jeans perché a volte si lavora molto meglio sul jeans che su questa piana qui che invece è di pelle che è molto bella però a volte un po scivolosa quindi io mi trovo meglio per certi lavori soprattutto sul jeans in questo modo qua poi altre cose che io utilizzo sono i fili questi sono fili di nylon di due misure questo in particolare è la misura 25 mm per 0,80 mm e invece questo è 40 mm per 0,50 comunque queste sono tutte cose che su amazon trovate tranquillamente poi utilizzo anche due tipologie di cordoncino nero che servirà poi per fare quelle collane che sono leggermente più sportive un pochino più casual diciamo e vi serviranno anche dei contenitori tipo questo qua c'erano i fermenti lattici quindi niente di particolare però io ho tenuto il barattolino perché comunque poi devo andare a riporre le mie perline quindi questi sono comodissimi non sottovalutateli perché possono essere utili quello che vedete qua dentro adesso ve li faccio vedere meglio questi servono per andare a fermare il filo una volta che voi fate il nodo poi vi farò vedere come si utilizzano comunque dovete inserire il filo in questa perlina e schiacciare con queste pinze che vi ho fatto vedere prima in questo modo il filo resterà fermo e il nodo comunque sarà più stabile poi vi serviranno degli anellini come questi questi sono i classici anellini dove poi va inserito il gancio di chiusura e questi sono i ganci di chiusura se poi volete fare degli orecchini vi consiglio questi che non sono proprio le classiche monachelle che hanno già la chiusura incorporata ma sono i gancetti tipici per gli orecchini io mi trovo meglio con questi ovviamente poi vi serviranno anche questi per andare a fermare l'orecchino altrimenti rischiate di perderlo per realizzare questa collana semplicissima vi serviranno i fiori fatti così io questi li avevo comprati nella mia città in un negozio fisico però ho visto che su aliexpress ci sono delle cose molto simili quindi vi lascio poi in info box ovviamente tutti i link ovviamente non c'è proprio uguale identica però ci sono cose simili quindi potete comunque realizzarla simile alla mia poi vi serviranno queste pietre fatte così che sono di plastica ma sono un pochino piatte mi ricordano tantissimo gli smarties poi queste perline a forma di riso quindi sembrano un po' dei chicchi di riso poi ovviamente il gancio di chiusura e queste perline minuscole che sono quelle che serviranno per chiudere il nodo ovviamente il filo di nylon e le forbici con le pinze quindi adesso vediamo proprio tutto il procedimento gli orecchini li facciamo dopo quindi li metto un attimo da parte cominciamo con la collana la prima cosa da fare è prendere la misura del collo perché volendo fare un giro collo ovviamente dovete essere sicuri che la misura sia giusta però vi consiglio di tagliarlo comunque più lungo la prima cosa da fare è fermare una delle due estremità del filo quindi dovremo andare ad inserire una di queste perline piccole che vi ho fatto vedere prima per andare proprio a chiudere il diciamo l'estremità e fare già l'anellino nel quale poi andrà inserito il gancio di chiusura adesso vi faccio vedere tutto nei dettagli per andare a creare l'anellino dovete inserire semplicemente il filo all'interno del foro di questo materiale di questa perlina qua una volta che lo avete inserito dovete prendere l'estremità del filo piegarlo e andare ad inserire nuovamente il filo all'interno del foro quindi andate ad inserire vedete che qui c'è un anello questo che adesso è troppo grosso ma è per farvi capire e avete le due estremità del filo voi avete in questo modo formato l'anellino quindi vedete che qua il filo è doppio una parte è questa che poi ovviamente ha la sua estremità che termina e poi c'è tutto il resto del filo dove andremo a inserire le perline praticamente noi qua adesso che abbiamo il nostro anellino abbiamo inserito questa perlina e andiamo a schiacciarla con le pinze per fermarla in modo che questa non si muova più questa più o meno è la misura dell'anellino e andate a premere con le pinze in questo modo qua in modo che stia ferma vedete viene una cosa così è veramente semplicissimo è più facile farlo che spiegarlo adesso per sicurezza perché la collana rimanga più ferma io ne inserisco due di quelle perline quindi prendete l'estremità del filo quella diciamo più lunga e andate ad inserire un'altra perlina di queste arrivate fino in fondo quindi proprio fino in fondo dove c'è l'anello e a questo punto vi ritroverete l'altro pezzo di filo quello qua c'è la perlina inserita vedete qua e qua c'è l'altro pezzo di filo voi andate ad inserirlo all'interno della perlina in modo che tenga fermo tutti e due i fili e vedete che viene una cosa di questo tipo questa ancora si muove quindi dobbiamo andarla a fermare come abbiamo fatto con questa che invece non si muove più schiacciandola con le pinze quindi prendete bene la misura e premete semplicemente sono molto morbide queste da premere ecco in questo modo avete già l'anellino nel quale poi voi andrete ad inserire il gancio di chiusura e i due coprinodo fermi che vi tengono ferma l'anellino adesso viene la parte più semplice adesso dobbiamo semplicemente formare la collana io la voglio creare veramente molto semplice quindi andrò ad inserire queste perline che sembrano dei chicchi di riso alternati a questi qua che sembrano degli smartis quando arrivo al centro del collo vado ad inserire questa rosa che rimane al centro del collo però lo schema è semplice perché inserite queste perline bianche una perlina di queste qua che sembrano smartis poi di nuovo quelle bianche poi di nuovo queste tutto ad alternanza quindi è veramente semplicissimo vi faccio vedere le prime due o tre e poi ci vediamo dopo per la chiusura dall'altro lato è molto semplice perché è sufficiente inserire il filo all'interno delle perline io ne inserisco quattro quattro perline di queste e poi metto una di queste qua che sembrano come dicevo prima degli smartis quindi ottengo questo lavoro qua poi ne metto altre quattro di queste qui bianche e poi ne metto un'altra di quelle viola lilla perché poi è un lilla non so voi che colore vediate con questa luce però è un lilla questo è praticamente quello che voi otterrete quindi il procedimento è questo è molto semplice mettete quattro perline così una di queste poi quattro così una di queste quando arrivate al centro del collo inserite la rosa comunque poi quello ve lo faccio vedere quindi ci vediamo fra pochissimo ok adesso sono arrivata alla parte che rimarrà diciamo al centro del collo quindi dobbiamo inserire questa questa ha i fori qua sotto quindi è semplicissima da inserire però vi facevo notare che ha i fori sotto per cercare di non fare una cosa che sia diciamo troppo pesante vado a mettere una perlina soltanto di queste qui bianche quindi vedete ho fatto il mio solito schema quattro bianche una viola quattro bianche adesso ne ho messo una viola qui però vado a metterne un'altra bianca in modo che ci sia poi un pochino di stacco con la rosa quindi vado ad inserire la rosa vedete il foro è qua sotto quindi io lo inserisco è molto semplice in realtà però io comunque vi faccio vedere qual è il mio procedimento quindi rimane poi una cosa così e vado ad inserire un'altra perlina bianca in modo che vicino al fiore ci siano le due perline bianche e rimane una cosa di questo genere poi in realtà le perline bianche vedete sono qua sotto ma non si vedono però io piuttosto che andare a mettere subito vicino quella viola preferisco una perlina bianca di stacco e poi vado invece a mettere subito quella viola così vicino qua in modo che rimanga una cosa fatta in questo modo questa parte rimarrà al centro del collo adesso procedo con le mie solite quattro perline bianche una viola e poi vi faccio vedere come si chiude ok la collana è quasi finita adesso dobbiamo mettere il gancio di chiusura voi prendete le estremità del filo andate a prendere una di quelle perline che abbiamo schiacciato prima con le pinze e la inserite all'interno così dovete inserire il gancio di chiusura prima di andare a schiacciare la perlina inserite il gancio di chiusura questo qua quindi inserite il filo all'interno del foro del gancio di chiusura adesso vedete che avete il gancio di chiusura e la perlina qua vicino quello che dovete fare è fermare il gancio di chiusura e quindi la perlina andate a creare un altro anellino con il filo quindi praticamente il gancio di chiusura lo lasciate qui da solo che tanto poi si ferma dopo dove c'è questo coprinodo questa perlina qua inserite il filo in modo da andare a creare un anello e praticamente tirate fino in fondo vedete in questo modo vedete che l'anellino è all'interno vedete il gancio di chiusura è all'interno dell'anellino e voi tirate fino in fondo ovviamente fate attenzione che dall'altra parte ci sia le perline siano siano bene alla fine perché a volte magari rimangono degli spazi con il filo qui ad esempio il filo era leggermente uscito dai fori quindi lo andiamo a reinserire un attimo ecco così adesso prendete le pinze e premete su quella perlina in modo da fermare il tutto il filo che avanza l'ho inserito all'interno delle prime tre perline in modo che diciamo rimanga una parte in modo che non si vada poi a staccare e vicino alla perlina ovviamente lo tagliate e questa è la collana finita vedete che potete andare a chiuderla in modo semplicissimo così vedete questa è la collana finita è un girocollo molto semplice però è comunque una cosa primaverile estiva che va benissimo in questa stagione adesso facciamo gli orecchini che devono essere ovviamente uguali alla collana gli orecchini io li andrei a fare in questo modo adesso soltanto appoggiato un attimo le perline per vedere come potevano venire una volta finiti non li voglio fare troppo lunghi perché altrimenti poi diventa una cosa esagerata quando fate gli orecchini dovete tenere presente che la prima ovviamente avrà il filo che esce all'esterno perché io il filo lo tengo doppio nel caso degli orecchini quindi voi inserite la perlina e avrete un lavoro di questo tipo il filo rimane così quindi se notate il filo di nylon rimane fuori dalla perlina perché io l'ho inserita e poi ho piegato il filo in modo da farlo doppio così però in questo caso non ha importanza perché questo tipo di pietra è larga e ha comunque il foro sotto quindi poi va a coprire il filo non si vedrà prendiamo la rosa e inseriamo nel foro i due fili questa volta sono due perché il filo è doppio quindi andate ad inserire proprio entrambi i capi del filo all'interno della perlina in modo che vi rimanga un filo doppio vedete rimane in questo modo la perlina sotto questa è la parte davanti quindi vedete che comunque non si nota perché una volta che li avrete appesi è vero che qua rimane dietro ma poi la parte davanti comunque non si vede e anche se per caso si vedrà lateralmente non è una cosa che disturba perché comunque è una perlina bianca che va a rifinire l'orecchino adesso inserite sempre col filo doppio un'altra perlina bianca vedete così poi andiamo a prenderne una viola e la inseriamo così e poi un'ultima bianca è fatto così in questo modo è molto semplice per chiudere vi serviranno ovviamente i ganci degli orecchini ma prima andiamo ad inserire la nostra solita perlina che poi va premuta una volta inserita non so se la notate qua andate a schiacciare con le pinze come abbiamo fatto finora con le collane quindi tenete fermo il tutto e andate a premere ok adesso dovete andare a creare un piccolo anellino che è quello dove poi dovrete inserire il gancio dell'orecchino quindi prendete un'altra perlina la inserite la prima diciamo che era di rinforzo poi per creare l'anellino vedete qua c'è la perlina per creare l'anellino andate ad inserire di nuovo l'altro capo del filo così e tirate tirate fino in fondo adesso che avete formato il doppio anellino andate con le solite pinze a stringere qua quindi a schiacciare in modo che resti tutto fermo questo filo che avanza lo andate ad inserire all'interno delle perline queste queste qua bianche e viola in modo che rimanga poi fermo e ovviamente l'eccedenza l'andate a tagliare qui abbiamo l'orecchino questo è il gancetto tipico degli orecchini prendete le pinze quelle che hanno la punta arrotondata queste qua e andate a sollevare leggermente l'anellino che c'è in fondo al gancetto degli orecchini questo lo aprite dovete proprio aprirlo una volta aperto andrete ad inserire l'orecchino facendo bene attenzione che questa punta rimanga dietro quindi l'orecchino andrà messo così quindi voi inserite praticamente la parte dell'orecchino al gancetto così in questo modo una volta inserito andate a stringere bene con le pinze abbiamo fatto gli orecchini e la collana in coordinato quindi io spero di esservi stata utile di avervi comunque dato un'idea uno spunto così per realizzare magari una cosa estiva primaverile vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme